Quando litigate, litigherete, tutti dovete mettere alla porta perché come marito e moglie è giusto che tra di voi dichiariate tutti devono stare alla porta, fuori dalla porta l'unico che non dovete mai mettere fuori dalla porta lo dico a tutti, lo dico con il cuore, è il Signore perché avendo il Signore al centro della vostra vita anche nel momento difficile del litigio riuscirete a vedere l'altro con gli occhi di Dio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti